Presidente Anelli, qui al congresso FIMG, dei messaggi chiari lei ha lanciato durante la sua reazione, ce li riassume? I messaggi sono legati naturalmente innanzitutto alla sicurezza. Il tema della sicurezza ha contraddistinto e continua a contraddistinguere tutto il periodo del Covid. Noi abbiamo oggi detto mai più nessun medico senza mascherine, nessun operatore sanitario senza DPI. Il tema della sicurezza è strategico, è centrale, è un diritto che deve essere sempre garantito da chi amministra perché sono stati troppi coloro che hanno perso la vita. Qual è la situazione al momento però, visto che i numeri continuano a crescere drammaticamente? I numeri crescono e quindi quella crescita lenta e graduale che aveva contraddistinto l'ultimo mese, l'ultimo mese e mezzo, si sta modificando e cominciamo ad avere invece un vero e proprio spike, cioè un aumento rapido della curva che non ci fa stare tranquilli. Insomma, siamo realmente preoccupati e questo significa per tutti i sanitari avere di fronte una popolazione con casi, con febbre, eccetera, che possono essere dei Covid e quindi ogni visita, ogni atto medico deve essere sempre contraddistinto dal massimo livello di sicurezza. Ma ci sono abbastanza mascherine DP per i prossimi mesi? Le mascherine ci sono, così come i DP, c'è un atteggiamento talvolta frutto di una mentalità del passato che oggi il Ministro ha più volte stigmatizzato, ossia il fatto che questi dispositivi, quello che veniva utilizzato in sanità veniva considerato una spesa e non un investimento. Io credo che la distribuzione dei DP non debba essere centellinato, debba essere invece, come dire, utilizzato con estrema generosità perché questo significa mettere tutti i medici nelle condizioni di poter operare in sicurezza per il bene del paziente. Senta, da qui è partita anche la proposta di fare i tamponi rapidi da parte dei medici di famiglia. Lei che cosa ne pensa? Che viviamo un momento straordinariamente difficile con le aperture delle scuole, dove ogni singolo raffreddore o ogni singola patologia delle alte vie respiratorie pone il dubbio diagnostico. Mettere tutti in fila nei dipartimenti di prevenzione diventa, come dire, un esercizio complesso perché comporta un allungamento dei tempi con ripercussioni sull'attività lavorativa anche dei genitori, con ansie e difficoltà delle famiglie che vogliono sapere se ci sono problemi. I test rapidi, soprattutto quelli tamponi rapidi, possono rappresentare realmente una svolta e ci possono diventare un grande ausilio per arrivare al più presto possibile ad una diagnosi certa. Senta, le vaccini invece in farmacia al dibattito di questi giorni, qual è la sua posizione? Lo abbiamo detto, i vaccini in farmacia oggi sono pochi. Le farmacie disponibili hanno una certa difficoltà ad essere numerose perché ovviamente non si può fare una vaccinazione, uno sgabuzzino. I locali dovrebbero essere autorizzati. È un processo complesso, se ne può discutere, al momento mi sembra improponibile.